in 50 mila per candele sotto le stelle lunedì l'ultimo saluto al consigliere roberto biagiotti arrestato latitante a valle foglie due ricettatori a fano via al nuovo piano socio sanitario delle marche anche il sottosegretario sgarbi al battesimo del roff buonasera a tutti voi telespettatori telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il telegiornale del canale 80 che in questo venerdì 11 agosto apriamo dedicando la copertina del notiziario alla notte appena trascorsa quella di san lorenzo accompagnata a pesaro per il nono anno da candele sotto le stelle una serata bellissima dove molto più delle parole questa sera sono state significative le immagini immagini straordinarie di una notte come questa la notte di san lorenzo candele sotto le stelle si è rinnovata anche quest'anno per la gioia di tutti quelli che hanno partecipato una serata straordinaria almeno 50.000 persone si sono riversate vestite di bianco da fosso signore a baia flaminia è una serata bellissima più c'è gabi c'è gradara che non dobbiamo mai dimenticare che aggregano un sacco di persone una serata semplice popolare per ognuno partecipano come vuole basta vestirsi di bianco però una festa magica grazie alle candele ai volontari di candelara e insomma siamo molto contenti perché siamo alla vigilia della capitale della cultura e quella di questa sera è una grande cartolina per spiegare che cosa sarà pesaro nel 2024 alle nostre spalle come potete vedere abbiamo la scritta pesaro 2024 con il logo il brand per la capitale italiana della cultura che avremo il prossimo anno quindi anche quest'anno siamo carichi siamo pronti e i nostri volontari stanno ritornando che hanno aiutato i vari bagnini sia nel piantare che nell'accendere i vari pali che sono lungo la spiaggia che creano questo serpentone di sette chilometri di candele una alla volta con i cerini una alla volta quindi è lunghissima no dai 180 minuti più o meno 185 due o tre ore ci vuole tutto tra spostare che le candele sistemare le toglierle la carta riciclare tutto quanto quindi dai circa tre ore di lavoro per una bella immagino una bella soddisfazione per tutti quanti i numeri sono veramente alti perché abbiamo circa 20.000 candele di un peso complessivo di 20 quintali dislocate tra pesaro il comune di gabizia il comune di gradara in questa grande tavolata hanno tutti la stessa maglietta in quanto sono tutti collaboratori che sono stati coordinati dall'APA per la realizzazione di questa manifestazione così possiamo dirlo così riuscita sì credo che sia un onore per tutti perché siamo poi tutti qua a servizio di una festa che è meravigliosa una festa molto particolare quest'anno con tutte le candele lungo lungo la battigia tante persone che partecipano un grande concerto e ora il momento di fare festa anche per che ha lavorato e quindi siamo tutti qua e stiamo festeggiando questa sera aspettando qualche stella cadente cosa dicono i turisti di questa festa allora ai turisti piace i turisti si trovano bene a pesaro tornano pesaro abbiamo molte persone che tornano da anni ormai nella nostra città è una città che può offrire molto e come sempre dobbiamo fare di meglio per essere più attrattivi e più accoglienti verso le persone che ci vengono a trovare una serata di festa ma che allo stesso tempo abbiamo voluto dedicare anche alla scomparsa di Roberto Biagiotti oggi che ovviamente ci ha fortemente fortemente colpito e tutta la città e una serata comunque diciamo l'insegna della spensieratezza perché l'orchestra casa dei è una diciamo dei miti di più generazioni lo vediamo anche questa sera nella piazza e soprattutto il connubio poi con la piccola orchestra Avion Travel crea anche un mix in una serata già magica con la nonna edizione del festival delle candele. Un giorno stavo ascoltando la radio e ho sentito Matteo il sindaco che ha detto che lui è nato sulle note di ciao mare che i suoi genitori fanno sempre cantare ciao mare e quindi la cantata in diretta io quando ho visto che la cantata in diretta l'ho chiamato subito e gli ho detto bisogna che veniamo a Pesaro e facciamo ciao mare quest'anno sono i 50 anni di ciao mare e quindi ancora più importante ho pensato infatti lui ha accettato la sfida e l'invito è nata una bella amicizia e quindi insomma ci siamo secondo appuntamento speriamo di esserci anche quest'altro anno perché Pesaro sappiamo che avrà questa è stata insegnita di questa bella cosa capitale della cultura. Abbiamo parlato con Mirko Casadei in esclusiva e Mirko Casadei diceva come posso fare per rimanere in contatto anche con quest'idea di Pesaro 2024 io ho lanciato un'idea che è quella di fargli fare l'inno di Pesaro 2024. Ah sarebbe una grande cosa sarebbe una grande cosa perché la capitale della cultura ovviamente è un evento che valorizza la cultura del nostro territorio e noi dobbiamo essere bravi a farlo la musica Rossini l'archeologia le ceramiche le tante cose belle che abbiamo però deve essere anche una grande festa popolare quindi se l'inno venisse da Mirko Casadei di certo sarebbe un successo e quindi insomma ci auguriamo che davvero possa farlo anche perché come sentite una musica gioiosa e noi abbiamo bisogno in un mondo in un paese pieno di problemi di avere anche dei momenti gioiosi come stasera. E le immagini che avete appena visto fanno parte di tre speciali che Rossini TV ha realizzato in occasione di Candele e Sotto le Stelle non solo a Pesaro ma anche a Gabicce, Mare e Gradara che per il quarto anno hanno rafforzato l'iniziativa estiva. Potrete rivedere tutto lunedì 14 agosto alle 21.20 quando trasmetteremo la notte di Candele di Pesaro e il giorno seguente martedì 15 agosto quando faremo altrettanto con gli speciali dedicati a Candele e Sotto le Stelle, a Gabicce, Mare e Gradara a partire dalle 21.20. E lo avete sentito poco fa anche nelle parole del vice sindaco Daniele Vimini, la notte delle Candele è stata preceduta anche dalla commozione per la scomparsa di Roberto Biagiotti, avvocato, consigliere comunale e consigliere provinciale da 20 anni attivo nella vita pubblica peserese. Biagiotti è morto ieri all'età di 40 anni, il funerale si terrà lunedì 14 agosto alle ore 16 nel Duomo di Pesaro. Gli uomini della Questura di Pesaro e Urbino hanno arrestato a Vallefoglia un 32enne latitante di origine albanese sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna per l'espiazione della pena residua di 4 anni e 5 mesi di reclusione per reati inerenti a stupefacenti e estorsione. Le indagini hanno permesso di identificarlo e di eseguire della carcerazione nel penitenziario di Villa Fastigi. E invece a Fano la polizia ha arrestato per ricettazione due persone il cui camper è stato perseguito in seguito ad una denuncia di furto in abitazione in cui sono stati rubate sette borse, due paia di occhiali da sole e un paio di scarpe da donna, tutti oggetti griffati del valore complessivo di 20 mila euro. Fermato il camper segnalato a bordo c'era un 47enne di origine croata e il figlio poco più che maggiorenne pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. A bordo sono stati trovati tutti gli oggetti denunciati per furto ma le telecamere della casa derubata hanno escluso che i due fossero gli autori del crimine. E invece è arrivato l'arresto per ricettazione per il padre con reclusione in carcere per il figlio con domiciliari e braccialetto elettronico. E a due giorni dalla travagliata approvazione in consiglio regionale del nuovo piano socio sanitario 2023-2025 della regione Marche ci ha fatto visita nei nostri studi il presidente della commissione sanità regionale Nicola Baiocchi che ha seguito la gestazione di questo piano e ce ne illustra gli obiettivi. Siamo a due giorni dall'approvazione in consiglio regionale del piano socio sanitario 2023-2025 della regione Marche, l'atto più importante a seguito della riforma avviata nel 2022. Per usare termini medici è stato un vero travaglio, sette ore di discussione un giorno seguente per l'approvazione, sempre per usare termini medici c'è stata anche una gestazione lunga e complessa che Nicola Baiocchi, la presidente della commissione sanità, ha seguito con un centinaio di audizioni che hanno voluto convogliare in questo piano le esigenze di tutti i portatori di interesse. Sì è stato un piano articolato, complesso, un percorso come tu hai ben ricordato è lungo e importante che è iniziato prima con tutta una fase preparatoria a redazione dell'atto da parte anche con l'ausilio dell'Università Politecnica delle Marche, la Bicocca, che ha portato poi a una bozza a riatto che è stato discusso all'interno dei territori con il presidente della regione, gli stakeholder istituzionali e poi è giunto all'interno della mia commissione dove abbiamo fatto, sì sicuramente con tempi abbastanza serrati, abbastanza veloci ma 130 tipo audizioni di soggetti che è interessati a voler dare un contributo per migliorare questo atto che alcuni suggerimenti sono stati poi recepiti all'interno dell'atto stesso per poi confluire all'interno dell'aula dove abbiamo votato due giorni fa. Dal territorio qual è la voce che risuona forte e impellente che si chiede a questo piano? Chiaramente c'è bisogno di cambiare alcune cose che sappiamo tutti che ancora non sono all'altezza, in questo atto è tutto molto chiaro, è chiara una visione non più ospedalocentrica ma anche di servizi sui territori, il DM 77 va in questa direzione con le case di comunità, gli ospedali di comunità e i centri operativi territoriali per dare un servizio sempre più vicino al cittadino un'esigenza che chiede fortemente. Fra le tante situazioni che prevede qual è la sfida più complicata da affrontare? La sfida più complicata è quella di riuscire a dare dei servizi ai cittadini vicini nei territori affinché le persone non si arricchino sempre al pronto soccorso nelle grandi città ma riescono a dare servizi sui territori più vicini e per evitare che con i codici bianchi e i codici verdi vengano gestiti dei pronti soccorsi. Liste d'attesa e mobilità passiva sono le due grandi lacune che vengono reclamate dall'opposizione sulla quale si lamenta una certa carenza ma soprattutto una risposta che non viene ritenuta così praticabile. No, è sicuramente il tema, le liste d'attesa è il tema più diremente su quello che gli uffici stanno sicuramente lavorando in maniera più importante, ancora non è soddisfacente la risposta. Dobbiamo sicuramente migliorare, il Covid purtroppo ci ha lasciato indietro tantissime prestazioni che dobbiamo necessariamente recuperare e fare fronte invece all'ordinario. Quindi assolutamente siamo consapevoli di questa situazione, ci stiamo mettendo sicuramente tutto l'impegno. Adesso questo nuovo piano sociosanitario darà in modo anche ai nuovi direttori generali di mettere a terra questa riforma nel più breve tempo possibile. E subito a ruota del nuovo piano sociosanitario è pronta all'approvazione in Consiglio regionale anche la nuova legge urbanistica della Regione Marche, come ci spiega l'assessore Stefano Guzzi. È un anno che come assessore all'urbanistica porta avanti il percorso per dare alla Regione Marche dopo 32 anni una nuova legge urbanistica. Sono stati decine di incontri sui territori e oggi finalmente andiamo in giunta, la approviamo dopo questa lunga discussione, lungo confronto e poi la inviamo in commissione per essere approvata in Consiglio regionale presumibilmente entro il mese di ottobre, comunque il prossimo autunno, in modo di essere operativa dal primo del prossimo anno. È una legge assolutamente innovativa, prevede 36 articoli ed elimina 8 altre leggi regionali che erano ormai tutte superate. In queste 8 leggi c'erano circa 350 articoli, quindi era complicatissimo anche interpretarla, mettere in campo delle attività eccetera. Invece con solo 36 articoli e un'unica legge noi andiamo a portare questa grande innovazione dal punto di vista del sviluppo e della tutela del territorio delle nostre Regioni. È tutta una nuova attività di pianificazione, un anno dall'approvazione della legge urbanistica approveremo il piano paesaggistico regionale, a 6 mesi dall'approvazione del piano paesaggistico regionale ci sarà il piano territoriale regionale, a 6 mesi da quell'approvazione ci sarà il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè quello che dovranno fare le province e a quel punto a due anni tutti i comuni delle Marche dovranno adottare i loro nuovi piani regolatori, come dire un percorso che dura 4 anni, ma in 4 anni tutto l'intero territorio regionale sarà rivisto secondo le nuove normative, ci sarà una nuova completa pianificazione urbanistica per la nostra Regione e avrà ovviamente delle forme anche inedite, spariranno quasi del tutto le varianti, quelle lungaggini burocratiche che tenevano ferme le imprese, che tenevano ferme le amministrazioni comunali, ci saranno aree diciamo non più previste urbanisticamente in maniera secca, statica, ma ci saranno delle aree a vocazione di sviluppo, sulle quali si potrà intervenire con molta più facilità quando ci sarà un'esigenza di fare nuove costruzioni o nuovi interventi sui territori. Punterà ovviamente il consumo di suolo zero o perlomeno il più vicino possibile al nuovo consumo di suolo per eliminare questa situazione che ovviamente non serve più ormai costruire su aree agricole se non in casi del tutto eccezionali, sarà basata particolarmente sull'efficientamento energetico, sul costruire, sul costruito, sulla rigenerazione urbana, sulla perequazione urbanistica senza consumare il nuovo suolo ma diciamo così sistemando al meglio, abbellendo se vogliamo le aree già edificate, già edificate magari dismesse oppure lasciate incompiute oppure anche vecchi quartieri, vecchie palazzine, vecchi stabili che hanno bisogno di essere rigenerati appunto, anche abbattuti e ricostruiti con tutte le situazioni ovviamente più moderne, più consone che oggi servono per avere uno sviluppo il migliore possibile dei nostri territori. Da oggi 11 agosto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale europea il bando della gara per l'esecuzione dei lavori alla Galleria della Guinza, un intervento atteso a Mercatello sul Metauro da oltre 30 anni che predispone le basi per avere un cantiere al termine dell'espletamento della gara. Lavori che dovrebbero partire entro la fine del 2024 che avranno una durata di due anni e mezzo per un investimento governativo da 130 milioni di euro. Lavori pubblici radicali anche nel borgo storico di Cartoceto dove in questi giorni è partito un cantiere da 810 mila euro destinato all'intervento di consolidamento e restauro conservativo del tratto di cinta muraria di via Cavour da via del Santuario a Palazzo del Popolo. Una parte dell'intervento prevede una vera e propria demolizione e ricomposizione della cinta muraria. Intervento di riqualificazione che segue quello completato su Piazza Marconi e che precede un'analoga messa in sicurezza di via delle Mura che sarà effettuata a settembre. E proprio a Cartoceto torna questa domenica 13 agosto la quarta edizione di Stelle d'Argento. Nelle notti delle stelle cadenti i locali e le attività ristorative delle comune promuoveranno una cena sotto le stelle all'insegna di buona tavola, eccellenze locali e musica. La serata si concluderà sotto il cielo stellato del Museo del Balì che rimarrà visitabile fino alle 10 e un quarto di sera. Ed ora torniamo su Pesaro e lo facciamo con lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Le telecamere di Rossini TV si accendono di nuovo su situazioni di strade degradate su sollecitazioni di residenti delle quartiere di Soria. Ci troviamo qua, siamo nella zona della piscina Parco della Pace per segnalare una problematica che riguarda una via adiacente, una via anche senza nome che è sempre più in stato di degrado. Questa è una via interna che si utilizza molto bene in quanto può evitarti la strada adriatica e nello stesso tempo in questi ultimi anni è sempre più disastrosa perché ci sono buche veramente molto pericolose, è la via che è il prolungamento di via Palmanova perché effettivamente nome non ce l'ha, costeggia dei palazzi e la proprietà della team, l'ingresso lì della team, viene utilizzata perché è una via d'uso pubblico per cui viene utilizzata da biciclette e macchine per raggiungere Soria in modo interno senza utilizzare appunto la strada adriatica e ci sono sempre state molte buche che sono state anche negli anni un pochino rattoppate, però poi adesso si è creata veramente la situazione più importante perché con le piogge violenti che ci sono state anche questi mini rattoppi hanno creato le problematiche che si vedono, queste buche molto pericolose, in bicicletta si cade sicuramente addirittura da problemi anche con le macchine perché se la prendi senza accorgertene in macchina o comunque se è bagnato e non vedi il livello della buca ti si può rompere sicuramente una gomma. Una vostra ipotetica richiesta quale sarebbe? Di fare in modo che venga sistemata, venga bene asfaltata perché tra l'altro appunto è di uso di tutti, tante volte si passa qui con i ragazzini, con i ragazzini piccoli, con le bici per cui è importante che venga risistemata a dovere e vedere chi può farlo insomma. Già però in questi anni è stata fatta qualche richiesta da parte vostra, a chi e come è stato un po' compensato questa richiesta? Sì, noi ci siamo rivolti innanzitutto al comune per sapere, per sistemare appunto questa situazione e il comune ci ha detto che la proprietà non era la loro ma risulterebbe di proprietà della team. Ma comunque qualcosa è stato fatto perché quei rattoppi, io non so, alcuni rattoppi veloci sono stati fatti e nello stesso tempo ci hanno dato anche la luce, l'illuminazione perché prima era veramente, era buia completamente. Ed ora una curiosità che non riguarda solo Pesero ma tutto il territorio nazionale. Sono da tempo divenute un arredo urbano obsoleto ma ora diventeranno pure un pezzo da museo. però parliamo delle cabine telefoniche che stanno per essere rimosse definitivamente proprio in questi giorni. Il 12 agosto questa postazione sarà dismessa. Recita così un manifesto affisso su una postazione telefonica di Piazzale Matteotti. Proprio in questi giorni infatti anche a Pesero così come nel resto d'Italia spariranno le ultime cabine telefoniche pubbliche attive da più di 70 anni. La team ha già da tempo affisso gli avvisi sulle postazioni e si appresta di smettere le ultime poche decine rimaste in città. A sancire la fine dei telefoni in strada, ormai utilizzati rarissimamente, è una delibera della Gcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che consente a Telecom di rimuovere gli apparati. Insomma, team non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e può cominciare a smantellarlo del tutto. Una fine che viene naturalmente motivata dall'utilizzo pervasivo dei cellulari, ma anche dei phone center per i cittadini stranieri. Dunque addio ad una tecnologia obsoleta per un nostalgico taglio ad un passato che va definitivamente in archivio. E concludiamo il nostro Tg parlando dell'apertura del 44esimo Rossini Opera Festival. Questa sera si inaugura con la prima opera e in mattinata la rassegna anche dato il via agli eventi collaterali, come la novità dei ROF Talks, che hanno visto anche la presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che ascoltiamo nella prossima intervista. Parte la 44esima edizione della Rossini Opera Festival. Ad inaugurare il ROF alla Vitri Frigo Arena è in questo venerdì sera la nuova produzione Edoardo e Cristina, ultima opera del catalogo ufficiale rossiniano non ancora eseguita al festival. Una rarità al pari di Aureliano e Palmira che seguirà la seconda serata del sabato e di Adelaide di Borgogna, seconda nuova produzione in cartellone che contrassegnerà la domenica della Vitri Frigo Arena. Un programma operistico anticipato da un battesimo del ROF è arrivato già questa mattina fra Casa Rossini, dove è stata inaugurata la mostra dedicata ai 200 anni dell'opera Semiramide e la Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Aspettando il termine dei lavori sul teatro previsti per settembre, il ridotto recuperato a marzo ha ospitato questa mattina il primo dei ROF Talks, tre mattinate di conversazione attorno a presente e futuro del festival che in mattinata, al fianco del sindaco Matteo Ricci e del presidente del ROF Daniele Vimini, ha visto anche la presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Da più di 40 anni ormai e dalla prima edizione io lo vidi, adesso purtroppo le regole di Speranza e di Conte stabiliscono che oltre le 6 non si potrà andare a teatro, quindi non si potrà vedere nessuno spettacolo, perché abbiamo vissuto che a quell'epoca lì mi chiedevo se avessero saltato le edizioni del 21 e del 22, ma mi pare di no. In ogni caso quelle regole assurde sui ristoranti provano che abbiamo vissuto un incubo e dall'incubo si esce soprattutto con Rossini, perché Rossini è la felicità e la vita, sarebbe stato schierato come sono stato schierato io con l'amico Carriera, visto che siamo a Pesaro, per ritenere che i piacere della tavola come quelli della musica non possono avere limiti temporali. E allora nel nome della festa, in una città in cui il sindaco era stato così severo per far rispettare le regole, credo che l'anima di Rossini volesse dire invece esattamente il contrario, cioè salvare la vita e oggi la vita ritorna, il turismo ritorna e questo festival che è il primo festival italiano per la musica, dedicato come quello di Salisburgo a un solo musicista, indica il ritorno alla vita, di non cadere mai più nei tranelli di falsi governi che danno ordini grotteschi e ridicoli. Mi ricordo che sono venuto le ultime volte qui a Fano e a Pesaro proprio da Carriera per entrare in un ristorante dopo le 6, qualcosa sarebbe come dire chiudiamo il teatro alle 6 e tutto questo fa pensare a un'epoca inaudita che abbiamo vissuto e questa è l'epoca della liberazione, quindi possiamo festeggiare come liberazione questo momento. Da prosindaco di Urbino Sgarbi ha anche pepato di sano campanilismo l'appuntamento di Pesaro capitale della cultura 2024. Festeggeremo con loro, io sono prosindaco di Urbino e quindi devo ricordare che forse per la capitale europea saranno insieme le due città, ma sarebbe stato giusto lo fossero anche in questa occasione. In ogni caso Pesaro è una città veramente viva, Urbino è una città importante, più importante forse di Pesaro o legata comunque a Pesaro, che viva soprattutto per gli studenti. Quindi le due dimensioni danno il senso che la festa per Pesaro è una festa dei cittadini, non è una festa degli studenti, quindi da questo punto di vista credo che faranno cose importanti e l'edizione del 2024, quella appunto della capitale della cultura, l'edizione del ROF, del Festival di Rossini sarà ancora più luminosa e ricca di stimoli e di occasioni. Si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News, come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata che in serate appunto di osservazione delle stelle cadenti è dedicata ad uno speciale correlato all'argomento, quello realizzato a Tavuglia in occasione della camminata sotto le stelle con escursione storico-culturale-musicale. Appuntamento questa sera alle 21 e 20. E l'informazione su Rossini TV non si ferma, anche domattina, sabato 12 agosto c'è l'appuntamento fisso con la rassegna stampa di Buongiorno Rossini, come sempre in diretta a partire dalle 7.20. E invece si chiude qui lo spazio informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.